Tanti hanno parlato di startup, Silicon Valley, pavia, avanti e indietro per il mondo. Io mi presento e mi chiamo Luca Ballista e oggi vi parlo invece della startup dal punto di vista un pochino più teorico, un pochino più palloso. No, non è vero, ho cercato di renderla divertente. Stamattina avete sentito Facility Live, ti convene uscire la presentazione perché avevo andato da sola. Sono lavoro nel marketing di Facility Live, un'azienda che stamattina avete sentito presentare e da circa due anni e mezzo mi occupo di startup, ho lavorato dal lato del supporto agli investimenti, alla strutturale idea di business e due anni fa ho fondato Activitas Pavia, ma ve ne parlo più tardi. Quello che quando si parla di startup molto spesso viene dimenticato è qual è il concetto di innovazione, cioè fare qualcosa di positivo e significativo che porti un cambiamento è fare innovazione, tutto il resto potrebbe non esserlo. Puoi fare una startup su un social network per cani e gatti se vuoi, ma non mi viene di definire l'innovazione quella. Quello che potremmo dire tra la differenza tra startup e innovazione è che quando vediamo una cosa come questa non mi sembra molto significativa. Qual è il problema dello slide? Quella dopo, scusa. Così è toccato. Quella dopo, quella dopo. Quella dopo? Grazie. Ok. Per esempio quella centrale mi ha fatto impazzire quando l'ho vista. Va bene, possiamo parlare di qualcosa di nuovo? Se vi mettete a fare quell'idea lì con i vostri amici sul mercato potete dire che state facendo una startup, cioè state starting up something, ma la parte soprattutto finale dire che è significativa. Quello che invece parliamo di startup innovazione vi faccio un esempio. Questo è un progetto che hanno tirato fuori dei ragazzi normalissimi da un corso di laurea del PoliMil l'anno scorso, che è che ha visto Fight Club film, Brad Pete, fantastico. Brad Pete trasformava dal grasso animale le saponette, va bene, lui ci faceva esplodere il mondo. Questi ragazzi invece hanno trovato un processo per convertire l'olio di cucina messo dentro questo cubotto, questo cilindro e fare del sapone che potete utilizzare in casa. Questa è innovazione. Magari non è un qualcosa di super disruptive, magari non cambia il mondo, però già stiamo parlando di qualcosa di diverso tra l'iPad, Popo, quello che potremmo definire. E qua mi viene da fare la parte noiosa un po' più da professore della definizione di startup che viene utilizzata nei vari libri, quando se leggete Steve Blank, persona che vi consiglio di segnare. È un qualcosa di temporaneo, non puoi stare startup per sempre. Rimani startup fino a che non trovi che cosa? Un modello di business che sia ripetibile e scalabile. Scalabile vuol dire che corre più veloce di quello che sono i costi. Per ogni euro che ci butti dentro fattori milioni. Un e-commerce è scalabile. Metti insieme un sito, tecnicamente puoi vendere in tutto il mondo. Poi non ci riesci, ma tecnicamente puoi. E vi do una definizione di business model, che è un'altra parola che viene spesso usata e abusata nel mondo delle startup. È il modo in cui crei, fornisci e catturi valore. Perché di fatto quando state lavorando una vostra idea siete lì per fare quello. Stai per portare sul mercato una proposta di valore, una value proposition. Business model fondamentalmente significa questo. Molti se lo dimenticano è una cosa importante quando si parla di startup. Perché non stiamo facendo beneficenza. Tanti dicono ok ho un'idea, ma i soldi come ci tiri fuori? Cioè a fine mese devi mangiarci con questa idea che ti è venuta. e quindi alza di fattura, maglietta del debocio. 19 euro su internet penso. Tutto parte da questo, è una cosa molto semplice. C'è un problema, trovo una soluzione. Purtroppo online si leggono di tantissime startup che hanno trovato un problema, ma non hanno in mano una soluzione, oppure hanno una soluzione che va bene per i bidelli nella settimana di Pasqua dalle 9 alle 10 di sera. Non è un mercato, non è una soluzione, non è un target di riferimento. E la differenza vera e propria tra gli startup, tra l'innovazione, tra tutto quello che si racconta in giro, quello che potete leggere sui blog, se vi appassionate l'argomento, è che l'idea che vi viene la mattina quando vi svegliate vale 1%. La rimanenza è 99%. Sto pianificando di tatuarmelo qua perché è una lezione veramente, veramente importante. Per quanto potete raccontare un'idea rimarra sempre un'idea. Mettetevi a farla. Dimostrate che è fattibile. Quello fa la differenza. E questa è la seconda parte della mia presentazione, poi lascio la parola a Gabriele che sono, nel programma c'erano 10 nomi, in realtà erano 10 cose, c'è stato un refuso, che potete fare se avete un'idea e volete passare dall'idea alla famosa execution. Numero 1, siamo powered by basta cazzate, è un articolo molto divertente, se lo googolate lo trovate subito, dice tutta una serie di luoghi comuni che chi inizia a fare impresa, chi inizia a fare startup, chi inizia un paio di frasi carine che ho utilizzato, altre andatevi a leggere perché se vi rendete conto che state dicendo quelle cose agli altri, siete sul track sbagliato. La prima, vi è venuta la famosa idea e quindi magari qualcuno ci ha già pensato, magari qualcuno la sta già facendo, è facile, andate a cercare su Google o parlatene con le persone, la gente non ve la frega l'idea. Lo diceva prima Lara, ve l'hanno detto stamattina, perché? Perché la gente non molla quello che sta facendo per fare la vostra idea geniale, è la mia idea geniale. La gente ha i fatti suoi a cui pensare. Parlatene con le persone, intervistate un panel di gente diverso, maschi e donne, adulti e bambini, amici, conoscenti e parenti. La vostra mamma di sicuro vi dirà che è bella, perché la mamma dice sempre che è bello, però magari qualcuno potrebbe aver da ridire. E se c'è da ridire, allora lì bisogna lavorarci sopra. Se volete guardare dei siti interessanti, questa è una lista, sono gruppi, sono portali dove potete trovare beta o progetti. Quindi se vi viene un'idea, guardateci di sopra che magari qualcuno l'ha già avuta. La seconda cosa, fase due, tre ingredienti importanti a cui stare attenti. La prima è il team, la seconda e la terza. Questa è la cosa veramente più importante. Non si può fare impresa da solo, perché fare start up non è il lavoro di gruppo universitario, è fare impresa, arrivare ad avere un'azienda. Da soli, one man band, non vanno da nessuna parte, non va bene neanche mettersi col primo che capita. Vostro cugino magari è molto competente, non lo so, non lo voglio offendere, ma molto spesso non è la buona idea. In realtà quella è una battuta che si dice team team team, prodotto mercato, quando si va a sentire i talk bar in giro sulle start up. Perché? Perché bisogna avere una squadra con cui fare le cose, bisogna avere un prodotto da mettere sul mercato. È una cosa molto semplice, però se non si cogliono questi tre concetti è facile fermarsi. A questo punto potete iniziare se volete a sporcarvi le mani, come facendo il business model canvas, che è il modello di business, ne abbiamo detto prima, il modo in cui vi alzate e andate a fatturare. Ma nello specifico è uno strumento, questo qua lo potete mettere su una lavagna di casa, sono nove aree, lo riempite di post it. Non vi sto a spiegare come si fa, però se mi scrivete via mail c'è una marea di materiale. Oppure vi andate a leggere questo pdf che si trova online e vi spiega che cos'è un business model canvas. È uno strumento veramente utile, che ti mette delle domande a cui tu devi rispondere. Più riesci a rispondere, più capisci che stai facendo la cosa giusta. Cos'è che succede quando si parla di startup? Voi state facendo delle ipotesi, perché se avete pensato un'idea che nessuno ancora ha fatto, per forza di cosa non potete avere la riprova. A scuola vi danno 18, vi danno 17, passi o non passi l'esame. Fuori, se state lavorando, non funziona così. Voi potete testare, ritestare, ritestare tutte le ipotesi che fate. Voi avete una soluzione che volete risolvere. La prima ipotesi è la risolvo nel modo A, ma magari non funziona, riprovate col modo B. Non ce n'è una sbagliata. A questo punto potete fare una cosa divertente, prima di iniziare a investire dei soldi, se li avete, di chiedere in giro dei soldi, se volete chiederli in giro, che è il prototipo. E vi racconto una sorellina. IBM nel 65 aveva sviluppato l'idea di Siri, che bene o male abbiamo tutti nei cellulari, Siri piuttosto che Cortana. Volevano riempire tutti gli uffici d'America con un sistema di dettatore vocale. All'epoca costava qualcosa come 90 milioni di sviluppare questo sistema, che erano veramente tanti nel 65. Allora cosa hanno fatto per capire se c'era o no mercato? Hanno preso una scatola, all'epoca i computer erano molto molto grossi, ci hanno messo una dattilografa, una signora che scriveva a macchina, hanno messo fuori dalla scatola una scrivania, un microfono. Hanno chiamato cinque segretarie di uffici in giro per l'America, le segretarie parlavano al microfono, la signora da dentro scriveva veloce e le cose comparivano sullo schermo. Se l'avessero fatto, avrebbero buttato nel bagno 90 milioni di dollari. Perché? Perché nessuno di quelle cinque segretari ha detto sì, questa mi rende la vita utile. Perché? Perché immaginatevi che ognuno di voi adesso inizia a parlare e dettare le cose. A parte che mi farei fatti vostri, non è carino. Poi si crea casino. Pretotipare è una parola che trovate in questo libro, un pdf gratuito, lo potete scaricare, che significa fare un qualcosa di estremamente basilare, ma che potete far vedere in giro. Perché se io ti racconto adesso un'idea che ho avuto cinque minuti fa, vedi l'idea. Fate le immagini tu in un modo, in un altro, in un altro ancora. Ma col prototipo potete portare una cosa anche disegnata, anche delle slide, anche un mock-up, un wireframe, quello che volete, che porti a capire le persone con cui state parlando, di cosa state parlando. E se vi fanno degli appunti, ve li fanno su qualcosa di concreto, non che stanno nella testa delle persone. A questo punto ho un problema che capita spesso. Uno dice, ok, questo prodotto potenzialmente è per tutti. L'acqua è un prodotto per tutti. Non è vero, l'acqua non è un prodotto per tutti. Il concetto di mercato è un concetto economico molto importante. Ogni prodotto è per un target specifico. Se voi pensate all'acqua, c'è uliveto, è l'acqua che depura, rocchetta è l'acqua della bellezza. Cioè state andando a parlare a un target di riferimento. Quando si fa comunicazione è fondamentale capire chi si è davanti con chi stai parlando. Si potrebbero fare tanti esempi, ma non è una lezione di economia, come dicevo. Se volete fare anche questo qua, altro strumento, se vi va a disegnarvelo, se no comunque le slide sono disponibili dopo. Questo è un ottimo esperimento, un ottimo strumento che vi permette di sperimentare e capire qual è il vostro target. A questo punto siete pronti a fare sul serio. Ne avete parto in giro, l'idea effettivamente in giro non c'è o c'è qualcosa di simile ma si può modificare. Avete fatto un po' di giochetti con i post-it? MVP, Minimum Viable Product. Cioè la configurazione più semplice possibile, la meno costosa, la meno sbatti in assoluto che si può fare per avere un qualche cosa che potete mettere fisicamente sul mercato e iniziare a venderlo. Apri un sito e dici io vendo questa cosa, se c'è qualcuno disposto a pagare il modello di business sta funzionando. Se dopo un mese non ne avete venduto neanche uno fatevi due domande. MVP, la parte minimum è fondamentale perché è proprio quello che significa del, non ha senso fare tre miliardi di cose, tutte le feature del vostro progetto, del vostro social network, della vostra app, di qualsiasi cosa avete in mente. Non ha senso svilupparle perché non sapete ancora se effettivamente quella cosa verrà venduta. Iniziate a vendere una cosa semplice, c'è tempo per migliorarla. Get out of the building è una frase che viene usata veramente moltissimo nell'ambito ed è non fatevi le cose in camera vostra, in cantina, in garage come si dice sia nata la Apple e tante altre aziende. Andate fuori, andate in giro, parlatevi, confrontatevi col mercato perché lì la prova della verità. Non è con vostra mamma che dice grande, bello, va avanti. A meno che vostra mamma non compri tutto. Potete andare in tanti punti a sviluppare la vostra idea, se non vi basta stare a casa o se avete un inquilino che fa casino. Ci sono gli spazi di co-working, a Pavia ne abbiamo uno e mezzo, poi ve ne parla Gabriele. Ci sono gli incubatori che invece sono strutture con persone che si chiamano mentor, che vi aiutano a sviluppare la vostra idea. E ci sono gli acceleratori che oltre a darvi questo aiuto vi danno anche un po' di soldi. Quello che vogliono indietro è una partecipazione nella vostra azienda, ma è oggetto di un'altra volta magari. Ci sono delle cose a cui bisogna fare attenzione. Tante volte si parte a un'idea perché ci piace quell'ambito di riferimento. Questa è una frase molto divertente che avevo letto su un blog. Se ti piace la pizza non ti apri la pizzeria perché non hai esperienza, non sai come si fa lievitare la pasta e la pizza, non sai quanti gradi deve stare il forno, a meno che non ci hai lavorato. Nella seconda cosa è che non vi dovete innamorare della prima cosa su cui state lavorando, ma bisogna avere la possibilità di cambiare, di modificare, di adattarla. E la terza che ha un elemento comune alle altre è che quando le raccontate le cose in giro, per forza di cose gli altri spegnete le camera, sono stronzi. Sono abituati a dirvi che quella l'ho già vista, ma quello lo fa così, ma non andrà mai. Ma perché? Per un semplice fatto. Le persone, tutte quelle cose lì hanno l'elemento comune dell'esperienza. Voi non avete esperienza, chi è fuori non ha esperienza e siete solamente voi che la dovete fare. Come ve la fate? Con la pratica, mettendovi a lavorare day by day. È importante essere informati, se state facendo innovazione, se state lavorando, fatevi una cultura con i libri, seguite i blog, seguite i gruppi facebook, anche qua mandate una mail, ce ne sono a valanghe, che potete trovare qualcuno più attendibile di altri, qualcuno scrive bene, qualcuno scrive male. Questi qua sono dei libri belli che ho letto, che hanno letto dei miei amici, sono stati molto utili perché ci sono degli spunti che effettivamente ti cambiano abbastanza. Sto andando veloce perché ho detto, i contenuti sono nelle slide e le trovate dopo. Se vi interessa approfondire l'argomento ne possiamo parlare, qua è per darvi un'infarinatura teorica. Alla fine c'è la parte di cui tanto si parla, il mondo degli investimenti, le start up, 5 milioni qua, 15 milioni là, l'azienda dove lavoro io, ne ha raccolti, è arrivata a 15 mi sembra il mese scorso. Il discorso è che gli investimenti sono soldi che delle persone danno per averne un ritorno, difficilmente uno fa beneficenza. Ci sono i premi delle camere di commercio ad esempio, ci sono le business plan competition, ci sono i business angel che sono dei privati, che sono dei veri angeli custodi che credono molto nella vostra idea, poi Paolo ve lo racconterà meglio, e ci sono i venture capitalists che invece sono quasi come le banche, non proprio, però lo fanno di mestiere di dare in giro i soldi. Però sono investimenti, si fanno quando gli altri 9 punti sono stati ben capiti e ben rodati. Domande fino qui? Sono stato veloce, vi ho annoiato? Quanto? Ok, grazie. Perché vi ho parlato di start up? Perché prima ho detto una cosa importante, che nel 2012 a me e un altro ragazzo ci sembrava fondamentale, se non c'è la cultura, le cose non le sai, e se le cose non le sai o le fai male o addirittura non ti metti a farle. Se in un ecosistema manca la cultura, l'ecosistema non esiste e quindi a Pavia non puoi parlare di start up, non puoi parlare di realtà innovative come quelle che abbiamo. E quindi sono un grande fan di Batman e c'era questa citazione nel ritorno del cavaliere oscuro. Cioè Batman non è l'eroe che la città ha bisogno, non è quello che la città si merita, è quello di cui ha bisogno. E noi abbiamo detto di cosa aveva bisogno Pavia nel 2012? Pavia nel 2012 aveva bisogno di qualcuno che parlasse delle cose che a Milano si sentivano veramente molto spesso. Cioè erano gli start up party, erano 800 persone al bobino, tra investitori, aspiranti imprenditori, social media manager, di Amazon, di LinkedIn, di eBay, ovunque, che parlavano di start up, ci andavi a fare networking, ci parlavi insieme, ti scambiavi biglietti da visita. Quelli purtroppo non ci sono più. Gli start up invece ci sono ancora. Stessa cosa, un po' più piccolini, domani sera mi sembra, ce ne è uno, se volete fare un salto a Milano io vado. E gli indigeni digitali, era una community che c'era all'epoca molto attiva. Abbiamo detto se lo fanno a Milano perché a Pavia non si può fare? E quindi ci siamo inventati questa cosa, questa activators che aveva una mission molto semplice, cioè creare una community. Noi non facciamo educazione, non siamo un incubatore, non siamo un investitore, noi siamo la community dove le persone si possono trovare. Perché qua? Perché abbiamo 26.000 studenti, siamo, io sono stato poco fa, voi lo siete adesso, tantissime persone, ognuna con un background diverso, venite da una storia diversa, studiamo materie diverse, nei collegi, nelle università, nelle facoltà e da questo c'è un grosso valore che tante altre città italiane non hanno, non è così scontato. Ma gli devi portare la cultura in questo ecosistema. La start up culture sono una serie di cose come quelle che vi ho detto prima, più tante altre, che bisogna parlarne perché vengano recepite e messe in pratica. Abbiamo un ultimo obiettivo ma di queste cose ve ne parla meglio Gabriele. Dunque, laureato in fisica, perché cavolo vi sto parlando direte voi? Beh diciamo che io faccio parte di activators da poco, sono dentro ufficialmente da settembre e unisco un interesse generale per il mondo dell'innovazione e delle start up, a un progetto di lavoro finanziato da ICE, istituto per la valorizzazione delle attività commerciali italiane all'estero, Confindustria Pavia e Università di Pavia, finalizzato in attività di scouting, delle attività di ricerca, spin off, start up, legate all'ambiente dell'Università di Pavia, ma più in generale dell'intero territorio pavese. Ma perché io, studente di fisica, ho iniziato a fare tutto ciò? Ok, forse ci siamo. Ok. Dunque, io un anno fa ero uno studente normale che dava ripetizioni ad altri studenti per guadagnare qualche soldo. A un certo punto la mia attività stava andando abbastanza bene e mi viene in mente, ma perché non creare una sorta di portale che facesse da intermediario tra chi impartisce ripetizioni e tra chi invece le vuole ricevere? Allora inizio a fare quello che poi successivamente ho scoperto essere chiamato il business model. Inizio a dire, questa idea può avere senso? Ci posso su fare un fattorato? Di che cosa ho bisogno? Di che team di persone ho bisogno per fare questa cosa? Ma soprattutto, esistono già dei competitors? Beh, io guardo un po', cerco su Google, come aveva detto prima Luca, e vedo tipo studente online, vabbè, poi guardo, che ne so, gruppi su Facebook, cerco e offro ripetizioni. Nulla di cui preoccuparsi. Cerco, cerco, aia. Tutor. Cos'è questa tutor? Una start-up nata da tre studenti della LUIS di Roma. Aveva all'epoca all'attivo 10.000 studenti, 10.000 utenti e aveva appena concluso un giro di investimenti da 60.000 e si stava prestando a vincere un alto da 400.000 euro. Il sito era fatto particolarmente bene, quindi vuol dire che avevano un team di sviluppatori della Madonna dietro. Stavano per aprire a Milano, avevano già aperto a Roma e probabilmente erano prossimi ad aprire a Torino, Firenze e Bologna. Io mi guardavo e dico, ero da solo, non ho nessuna esperienza, non ho un team, sono fregato. Quindi che ho fatto? Era impossibile per me sconfiggerli, ho deciso di unirmi a loro. Gli ho chiamati al telefono e gli ho chiesto, ma scusate, voi state aprendo al nord, vi interesserebbe la città di Pavia? Vi interesserebbe qualcuno che vi aiuti ad aprire nelle altre città universitarie del nord? E' così che sono diventato il community manager di Tutor qua a Pavia. Nella mia attività, la mia attività comprendeva quello che viene chiamato la user acquisition, attraverso organizzazioni di eventi, soprattutto nell'università, ma anche nei vari luoghi tipo gli eventi fatti da activators o nelle zone di attività di co-working, finalizzate appunto a promuovere lo sviluppo di Tutor. Infatti attraverso questi eventi sono venuto a conoscenza di quelli per cui adesso io faccio parte del team di activators. Infatti vado là, sento parlare di questo Luca Ballista attraverso diversi contatti e dicono guarda c'è un format abbastanza carino di networking, ci si ritrovano queste persone alle dieci e mezza il sabato e a turno si presentano... Una volta al mese, non tutti i sabati. Sì, una volta al mese, quasi una volta al mese, a volte. E sì, tutti sono più o meno allo stesso livello, il professore, lo studente che è curioso, l'imprenditore, colui che cerca di lavorare. Tutti si presentano e poi dopo si va tutti a fare una colazione insieme, lì dentro, e ci si scambiano i contatti, insomma il networking classico. Quindi che cosa è successo? Nonostante poi alla fine ho smesso di fare il community manager per Tutor. Da un lato perché in realtà non mi interessava, perché il mio obiettivo è creare qualcosa di mio. Dall'altro perché avevamo delle divergenze di opinioni, io e il CEO di Tutor. Comunque mi ha portato una prima esperienza che mi ha portato a conoscere appunto il mondo dell'imprenditoria e il mondo dell'ecosistema che sta tutto intorno al mondo delle start-up e dell'innovazione, soprattutto qua a Pavia ma anche a Milano. Adesso, se ho imparato una cosa, e che in realtà vi ha già spiegato più che bene il nostro professore Luca, è importante per promuovere la tua idea, per promuovere la tua possibilità di una start-up, fare networking. Io posso diciamo citare un esempio che ho avuto personale. Ero uscito una sera con degli amici e fatto sta che incontro uno studente di economia, molto sveglio, e scopriamo di avere una passione in comune, la passione per l'innovazione delle start-up. E a un certo punto lui mi fa, guarda Gabriele, io con un gruppo di amici sto per creare una start-up basata sui gioielli. Dico, figo, parlamene un attimo, cosa si occupa, cosa volete fare, chi sono i vostri utenti? E lui mi fa, guarda Gabriele, io ti vorrei dire un po' di cose, però ho parlato un po' con i miei membri del team e abbiamo deciso di non dire niente a nessuno. Scusa, come? Perché? E fa, dice, eh, noi abbiamo paura che le persone ci possano rubare l'idea. Allora, dato che su questo tema bisogna insistere più volte, ve l'è stato detto più volte nel corso di questa giornata, ma lo dico anch'io. L'idea, per la chiave del successo, conta l'1%, conta il team, conta il lavoro che bisogna fare sotto per far sviluppare quell'idea. Voi potrete avere anche l'idea più figa del mondo, ma se non avete dietro il team, un team davvero capace che può fare questa cosa, nessuno investirà mai un euro sulla vostra idea. A maggior ragione, e adesso non voglio essere volgare, ma scusatemi. Se la vostra idea, voi avete paura di parlarne perché pensate che il primo perfetto sconosciuto può ruvarvela, scusate, però forse è un'idea di merda. Quello che vi posso suggerire, oltre di parlare il più possibile della vostra idea, e anche a scapito di rivenire un po' di rompicoglione a un certo punto, però vi assicuro che i vantaggi sono superiori degli svantaggi in gran lunga. Quello che vi posso anche suggerire è quello di anche esplorarvi un attimo intorno e vedere quello che l'ambiente che vi circonda, sia questo l'ambiente di Pavia, l'ambiente di Milano, ma anche l'ambiente online vi può offrire per valorizzare al meglio quell'idea che voi volete far arrivare al successo. Ad esempio, per ora vi ho parlato, purtroppo ancora poco, del format di Activators, quelli che noi presentiamo qua a Pavia. Però ad esempio già a Milano possiamo vedere molti altri format simili, organizzati da associazioni come Startup.me, Startup.grind. Ad esempio, se voi avete un'idea basata sull'informatica, mi interesserà magari avere degli eventi dove tutti gli sviluppatori sono presenti e si incontrano, come il Code Week o Girls in Tech. Ma andiamo adesso un attimino a vedere meglio gli attori che fanno parte dell'ecosistema pavese, che è importante sapere se uno vuole qui, in questa città, cercare di fare un'attività imprenditoriale. Allora, premetto che viene sempre detto che Pavia è veramente pessima dal punto di vista dell'imprenditoria giovanile. Ahimè questo è vero. Rispetto a città come Milano, ma soprattutto rispetto alle città europee, è veramente messa male. Però possiamo citare degli esempi di persone che ce l'hanno fatta e di persone che ce la stanno facendo e ce la stanno mettendo tutta, perlomeno. Possiamo ad esempio citare Seven Pixel, che ha avuto recentemente un investimento da 55 milioni di euro. O Facility Live, 15 milioni di investment. O Musement, 5 milioni di investment. Wineout, 0.5. Vabbè, sembra piccolo rispetto agli altri, ma sono comunque soldi. Detto questo, parliamo un attimino di uno degli attori principali che soprattutto a voi studenti possono interessare. Infatti dalla collaborazione tra Activators e l'Università di Pavia è nata un IPV Innovation. Un IPV Innovation fa pochi eventi l'anno. Di solito l'anno scorso ne ha fatti tre. Il format dei suoi eventi è più didattico, perché ovviamente è incentrato sullo studente, sullo specializzando. Di solito ha una tematica, l'evento di un IPV Innovation, e all'inizio abbiamo un imprenditore di successo in quel campo che è tema dell'evento, che viene a parlare e presentare la sua storia. A seguito vi è il famoso aperitivo di networking, dove vengono invitati anche i produttori locali, che hanno per esempio i berifici di Pavia, e quindi si ha la possibilità di fare conoscenza bevendo magari una deliziosa birra. Gratis, ovviamente. Meglio, no? Ad esempio posso citare una giornata abbastanza carina che è stata fatta a giugno di quest'anno al Collegio Spallanzani, il Drone's Day, dove in pratica gli operatori che lavorano con i droni erano tutti presenti per far svolazzare all'interno della palestra del Collegio i loro droni e rispondevano alle domande, alle curiosità e alle perplessità soprattutto di tutti coloro che erano presenti. Eccoci, ci siamo. Abbiamo delle associazioni che hanno come scopo, come guida, quella di aiutare il mondo imprenditoriale giovanile in un solo. Ho parlato di ICE, ma devo anche parlare di Confindustria Pavia, che promuovono attività per facilitare l'avvento di queste attività imprenditoriali nel territorio e creano anche eventi che cercano di promuovere questa realtà che nonostante sia piccola qua Pavia comunque esiste. Parliamo un attimino dei luoghi dell'innovazione. Cosa intendo per luoghi dell'innovazione? Luoghi che hanno come luoghi dove chiunque che voglia fare una start-up, voglia iniziare un'attività imprenditoriale deve conoscere nella propria realtà in cui si trova. Ad esempio, abbiamo parlato prima, Luca ha parlato di luoghi dove poter fare eco-working. Beh, diciamo che sicuramente il luogo più importante qua Pavia è il polo tecnologico. Il polo tecnologico e possiamo anche citare altri spazi di co-working, magari più al centro, un'importante labora co-working, dove tra l'altro, a per parentesi, faremo il prossimo evento di Activetos Breakfast il 10 ottobre. Abbiamo Open di Torre Vecchia Pia, abbiamo Spazio Geco, ma è più interessante parlare di Fab Lab all'interno di Spazio Geco che si occupa appunto di produzioni attraverso l'uso di stampanti 3D, quindi cosa abbastanza figa. E' importante anche parlare che l'università cerca di promuovere soprattutto le attività di ricerca create da studenti specializzandi o dottorandi attraverso il servizio ricerca e terza missione che appunto cerca di trovare i finanziamenti per queste attività di ricerca. Detto questo, vi invito sicuramente per chi non è interessato a partecipare agli eventi che noi promuoviamo. Il primo, come avevo già anticipato, è il nostro Activetos Breakfast che sarà il 10 ottobre, sempre sabato alle 10 e mezza. Come dice Luca scherzosamente, questo è un ottimo metodo per selezionare all'ingresso coloro che sono davvero interessati, perché chi è che si alza alle 10 e mezza nel mattino di sabato se non è interessato? Che comunque è tardi. Eh sì, è già tardi però insomma. Però è importante anche parlare del prossimo evento di un IPV Innovation che sarà molto interessante. Ci sarà l'Otito, CEO di Facility Live, ma ci sarà anche il professor De Nicolai che presenterà la propria idea di una call for idea per una business plan competition. sarà un evento abbastanza carino dove studenti di tutte le facoltà verranno selezionati e avranno a disposizione un team di studenti di economia specializzati che attraverso appunto questa business plan competition potranno accedere almeno tre vincitori a una successiva fase dove potranno pitchare a dei veri investitori. E quindi da un'idea che era semplicemente sulla carta uno si ritrova ad avere un business plan fatto da studenti competenti in maniera completamente gratuita e la possibilità di avere un investimento per una vera startup. Invito comunque se siete interessati ad avere anche nuove info per quanto riguarda questi eventi e altro a seguirci sui nostri canali di social. Abbiamo una pagina Facebook ma anche un gruppo Facebook dove di solito abbiamo Luca e Paolo che spammano sulle nuove novità e curiosità di qualsiasi tipo abbiamo recentemente aperto anche un account Twitter e se volete invece scriverci e avete dei dubbi delle curiosità abbiamo il nostro indirizzo mail che è activators.pavia.gmail.com Ringrazio per l'attenzione e spero di non avervi annoiato troppo Buon pomeriggio sono Paolo, il CEO di MyAgonism, una startup che è nata a Pavia e sta continuando a Pavia noi forniamo analisi di dati sportivi innovative alla portata però di tutti i coach nel mondo quindi la visione è dare la possibilità ad ogni coach nel mondo di analizzare e gestire il proprio team come se fosse una squadra dei massimi sistemi, dei massimi livelli Qual è il problema che abbiamo trovato io e i miei co-founder, i miei soci? Che l'80% dei coach nel mondo al giorno d'oggi utilizza carta e penna per tenere le statistiche durante la partita cosa che secondo me era assurda e quindi abbiamo cercato di aiutarli in qualche modo una delle problematiche principali è che sì tutti vogliono essere Michael Jordan ma è anche difficile trovare proprio Michael Jordan all'interno del proprio team ci sono due problemi principali, economico perché è difficile avere i soldi per potersi permettere dei servizi veramente costosi di analisi avanzata dei dati e il secondo è un problema di know-how, non tutti i coach, anzi pochissimi coach hanno le conoscenze statistico e matematiche per analizzare veramente i dati in maniera utile per il proprio team quindi forniamo tre principali servizi una app per iPad con la quale l'assistente del coach, che è già una persona pagata per fare quello può durante la partita tenere traccia di tutti i dati dei propri giocatori senza nessuno sforzo, con tre piccoli tocchi sul tablet tutti i dati vengono salvati in cloud su una sorta di LinkedIn dello sport dove i coach, i player e i recruiter possono analizzare i dati in maniera innovativa e molto semplice per loro la terza cosa è l'hardware, no stai pure lì, l'hardware che abbiamo appena lanciato siamo i primi in Europa ad aver tracciato anche 3D, un campo di gioco dei giocatori di basket tracciato nel campo del Pavia di basket, si chiama Pallaravizza se ancora non lo sapete perché magari siete appena arrivati a Pavia e questo completa il ciclo perché così teniamo anche dati fisici velocità, accelerazione, movimenti in campo tutte queste cose possono essere matchate con i dati statistici quanti tiri da 3 hanno fatto i giocatori, quanti tiri da 2 hanno fatto e dare veramente una cosa molto utile e innovativa al coach esattamente come fanno nell'NBA ma ad un costo assolutamente irrisore quindi accessibile a tutti dietro a tutto questo lavora il nostro algoritmo da cui siamo partiti io sono un biologo marino in realtà e tra i miei studi di statistica c'era anche questa cosa che si chiamava Fuzzy Logic e mi è venuto in mente di portarla all'interno della valutazione del talento sportivo per innovarlo, in pratica creiamo le single statistiche in maniera diversa a differenza di pesarle in maniera diversa come fanno molti con i vari indici quindi dietro a tutto quello che noi forniamo gira l'algoritmo in pratica i coach stessi ci forniscono i dati che noi analizziamo per ritornarli tramite questi algoritmi che abbiamo inventato il business model quindi come facciamo soldi ovviamente si basa sui dati cioè noi forniamo dati e servizi a tutti questi che sono gli attori del network market dello sport i player, i recruiter, i broadcasting media, le televisioni, le betting company hanno bisogno di dati sportivi che non hanno noi ne abbiamo tanti per quello si dice big data e glieli possiamo fornire sotto varie forme stiamo crescendo tantissimo abbiamo appena fatto un lancio siamo già a 900 club iscritti da più di 40 paesi nel mondo abbiamo raccolto più di 3 milioni di azioni già ad oggi vai che andiamo veloci il mercato del basket in questo momento io sono un ex cestista di serie D abbiamo cominciato dal basket perché era lo sport su cui eravamo più ferrati ma possiamo scalare sugli altri sport molto velocemente abbiamo calcolato che il mercato del basket è circa 11 miliardi all'anno e possiamo scalare sugli altri mercati in maniera molto rapida 3 mesi per ogni nuovo sport abbiamo tanti competitor quando fai un'azienda devi avere dei competitor altrimenti devi farti qualche domanda ad esempio se nessun altro fa quello che fai tu o è impossibile da fare o è poco profittevole farlo quindi se li hai diciamo è già una prima validazione del tuo mercato in basso a destra vedete quelli molto costosi ma difficili da utilizzare e in alto a sinistra quelli magari anche gratuiti ma che non ti danno dati professionali il team di base è 4 persone abbiamo raccolto circa 250 mila euro dal 2013 ad oggi con due business angel che sono le persone di cui vi parlavano prima quindi persone private che hanno dei capitali e delle conoscenze che possono mettere all'interno della vostra startup e vi possono aiutare a gestire meglio il management a gestire meglio le ricerca fondi a gestire meglio le vendite il marketing e la comunicazione questo è il team ad oggi siamo incubati siamo stati incubati al polo tecnologico di Pavia per dire che si può partire da Pavia in qualche modo anche se non è così semplice come sembra è molto più semplice in Silicon Valley perché sennò sembra però siamo già cresciuti come vedete siamo un po' insomma e siamo proprio in ufficio al polo tecnologico di Pavia quindi un mini give back l'abbiamo già dato e le nostre mail vai pure avanti vi faccio la parte divertente vai questo è quello che vi sto per raccontare mi hanno chiesto di raccontare un po' la storia di quello che abbiamo fatto ecco in termini di errori che si possono fare facendo solo capire li ho fatti più o meno tutti il primo allora siamo partiti una piccola precisazione quello che ha fatto fino adesso Paolo è il famoso investor speech cioè tu devi convincere in tre minuti ce ne ha messi quattro quindi era in media l'investitore a darti quanto ha raccolto due 250 mila euro così si fa un investor speech il mercato il competitor era giusto per darvi un overview poi Dario ve ne farà un altro e quindi sì qual era la mia start up qua invece cerco di dire quello che mi hanno chiesto di dirvi cioè un po' gli errori delle start up e delle start up nel mondo cosa c'è nel mondo quali sono gli ambienti nel mondo dunque siamo partiti da un'idea nel 2011 l'algoritmo appunto io e Lorenzo non volevamo migliorare l'analisi del talento nello sport e abbiamo creato un algoritmo da lì hanno cominciato a dirci che poteva essere un business e abbiamo cercato dei co-founder ovviamente come dicevano prima il team è molto importante li abbiamo trovati nel gennaio vai a poi più avanti nel gennaio del 2012 ok subito dopo capolanno e abbiamo cercato di lanciare un primo accrocchio del sito che comprendeva come vedete un po' tutto un po' tutto cioè volley, rugby, calcio, basketball per i coach, per i player per i recruiter per tutti cioè zero focus sul mercato insomma eravamo alla prima errore appunto di essere troppo generalisti abbiamo lanciato con il CONI alle olimpiadi del 2012 abbiamo fatto conferenze in università vai pure avanti è difficile non mandarle avanti io in effetti a settembre del 2012 abbiamo lanciato la prima versione beta e nel frattempo Lorenzo si è laureato all'università degli studi di Milano in scienze motore con tesi su my agonism e con un professore del CONI quindi diciamo abbiamo validato quelli che erano i nostri algoritmi e il fatto che alle persone a cui cercavano di vendere una cosa cioè gli sportivi interessava del nostro sistema vai vabbè abbiamo fondato nel 2013 l'SRL siamo stati incubati presso il polo tecnologico di Pavia abbiamo cominciato ad avere un po' più di focus leggermente cioè abbiamo cominciato a ridurre a valuta il tuo atleta analizza le sue statistiche gestisci il tuo team quindi abbiamo ridotto un po' quello che era l'idea generale iniziale perché l'idea va sempre cambiata ed evoluta nel tempo questa è sia cartesienica nel senso siamo andati a un sacco di eventi dove si fa networking dove si fa brainstorming dove veramente ti trovi a scrivere spesso su cose improbabili la tua idea come stai migliorando come puoi venderla a breve quanti soldi stai cercando di raccogliere perché poi abbiamo ricevuto il primo fondo 60.000 euro da un investitore privato perché perché abbiamo avuto la possibilità vai di vincere anzi arrivare secondi a una competizione qui al polo tecnologico di Pavia che ci ha permesso di andare qui a Mind the Bridge Mind the Bridge è una startup school a San Francisco e come tutti gli startup pari a San Francisco abbiamo fatto quello che tutti fanno cioè siamo andati in giro ci siamo divertiti un sacco siamo andati a farm abbiamo mangiato abbiamo girato con persone poco probabili e ci abbiamo anche un po' lavorato ok là vai avanti vi sto facendo venire la malattia mentale là cosa è successo? clicca ancora ci hanno tagliato le gambe in qualche modo cioè ci hanno detto non potete fare tutti gli sport non potete cercare di offrire servizi a chiunque non potete dovete stare focus su qualcosa trovate il pain più alto alla persona a cui risolvete davvero qualcosa nel nostro caso i coach e risolvete il problema a quella persona lì a quei customer a quei clienti lì in questo modo forse riuscirete a validare un modello di business e quindi forse anche poi a replicarlo e poi espandervi successivamente abbiamo fatto un primo lancio del prodotto vai pure avanti ho parlato un po' dappertutto vai veloce qua in giro per il mondo San Francisco Chicago Atlanta Dublino a Pavia sicuramente tanto a Milano in Italia in generale perché ovviamente tu stesso quando vai a parlare alle persone pian piano cresci e impari cosa è meglio dire cosa è meglio non dire quando si dice l'idea la devi dire a tutti l'idea la devi dire a tutti devi validare la tua idea magari c'è quella piccola cosa che conviene non dire fino all'ultimo momento perché ti può servire tenerla come sorpresa finale e tutte queste cose qua a novembre 2013 abbiamo realizzato che mancava la parte del wearable hardware di cui vi dicevo prima cioè noi prendevamo le statistiche le mettevamo nella piattaforma e le facevamo analizzare ma mancava una parte fisica non sapevamo dove erano questi giocatori a che velocità corrono a con che accelerazione fanno lo scato con che decelerazione frenano quando fanno un arresto e tiro ed è molto importante perché ci possono prevenire gli infortuni con questi dati allora abbiamo cercato di aggiungerli abbiamo cercato di costruire da soli un hardware tirando dentro l'ultimo membro del team che è Tullio Facchinetti che è un professore di ingegneria del software Pavia e abbiamo cercato di sviluppare il tutto vai abbiamo lanciato a settembre 2014 la prima vera beta pubblica prima erano tutte versioni di test questa era veramente pubblica infatti quando vi dicevo 3 milioni di azioni raccolte è stato da settembre 2014 ad oggi quindi la prima stagione cestistica e poi cosa è successo? vai un periodo di free falling totale cioè da ottobre 2014 fino a marzo 2014 la morte nera cercavamo un investimento che ci permettesse di andare avanti in qualche modo e non è stato tanto semplice perché a ottobre 2014 ho trovato i soldi 150 mila euro due persone che erano perfette avevano un sacco di network ci avrebbe aiutato tantissimo ce li hanno dati stavamo per firmare però i soci insomma hanno creato un po' di problemi abbiamo litigato l'ultimo errore che mi mancava era il litigio con i soci se farete una startup sicuramente capiterà anche questo è per questo che è importante il team e sono cose da cui si deve passare se riesci a passare indenni cresci tantissimo però adesso non è semplice poi però non vogliamo never give up andiamo avanti a dicembre ne trovo altri 200 mila questa volta dai che questo forse è quello giusto vediamo cosa succede non va perché questa persona era un maneggione mettiamola così e questi soldi li usava in maniera un po' strana cioè li usava più per lui che per noi e non volevamo entrare in queste cose quindi abbiamo detto noi di no è tutto reindagato mi risulta no no il prossimo mi bruci le cose così il prossimo arriviamo a febbraio 2015 e trovo 150 un po' di meno però questa volta sembrava quello giusto era un imprenditore quindi non diceva fuffa sapeva cos'era un'impresa soltanto che il giorno prima di firmare era proprio indagato per mafia cioè non era lui mafioso però era purtroppo una delle cose brutte di fare questa cosa qui in Italia è che insomma ci sono tante persone per bene ma ci sono anche tante persone che come sappiamo il problema principale dell'Italia è la poca chiarezza seguire poco le regole e la mafia è sicuramente uno dei problemi principali in assoluto corruzione anche sì sì assolutamente e quindi l'abbiamo scelto di non prenderli anche questa volta e insomma pensavamo che fosse la morte però 12 ore dopo aver detto di no a quel signore ne abbiamo trovati da un altro con cui eravamo già in contatto che dopo aver saputo questa storia ha deciso di darci fiducia 150.000 euro e quindi abbiamo potuto cominciare ora mi trovo in questa fase qua in cui quando fai startup ti trovi spesso cioè è divertente non è così divertente quando ci sei dentro stai per lanciarti allora hai tirato l'elastico proprio al massimo per andare a tutti i capitali che ti servono devi solo lasciare andare e se voli bene fai dall'altra parte poi tanto non è che di là sei arrivato devi scalare fare un sacco di cose però diciamo c'è un periodo la death valley delle startup che è proprio quello che sto vivendo in questo momento cioè quando hai cominciato a fare il primo prodotto lo stai mettendo sul mercato hai i primi soldi hai trovati lì viene la parte più difficile perché è difficile continuare a trovare soldi o cominciare a fatturare seriamente e lì è dove muoiono la maggior parte delle startup che sono riusciti ad arrivare a questa fase quindi puoi schiantarti contro il muro oppure puoi volare quello che io sono certo di poter fare è cercare di volare se mi schianto troverò un modo per rialzarmi non c'è problema bene questa era la mia storia nel mondo cosa succede? conoscete tutti la Silicon Valley non del silicone ma del silicio nel caso qualcuno mai sia venuto in mente silicone perché spesso io pensavo così così ve la dico tutta nella Silicon Valley è un ambiente che non si può replicare da nessuna parte del mondo come vi è già stato detto prima c'è una velocità di pensiero un mindset la possibilità di parlare con le persone molto più velocemente arrivi ai vicepresidenti di squadre come i Sixers oppure con New York Nix oppure persone che in Italia per livelli di management che in Italia ci metti un anno o due anche solo a riuscire a mandargli una mail la magari in due settimane riesci a parlarci direttamente bevendoci un caffè quindi l'ambiente le persone che trovi il livello di capitali e la l'ammasso di start-up e di menti che c'è in pochi chilometri rende la Silicon Valley ovviamente unica nessuno è riuscito a replicarla seriamente nel mondo ovviamente dopo la Silicon Valley gli americani hanno provato a farne altre mille ci sono un bel po' di posti in America dove si fa start-up in maniera seria Los Angeles New York Boston Chicago Seattle è molto rappresentativa queste sono quelle migliori secondo me ovviamente in tutto il mondo si può fare start-up si può fare in capa via non la troverete capa via su quella mappa ovviamente però questi sono i posti dove in questo momento è più semplice raccogliere capitali è più semplice trovare chi ti demolisce l'idea per migliorarle è più semplice parlare con le persone per arrivare a un grosso compratore un grosso utente mentre invece in altri posti non è così dopo l'America il posto in realtà migliore nel mondo in questo senso migliore anche da Silicon Valley è Tel Aviv Israele ovviamente come capirete bene ci sono tantissimi soldi e c'è la concentrazione per chi è un metro quadrato più alta nel mondo di start-up anche più della Silicon Valley quindi un altro posto nel mondo dove si fa start-up in maniera veramente spinta e molto seria attualmente è Tel Aviv poi successivamente ovviamente viene Londra quindi l'Europa in realtà non è da meno anche se è arrivata molto dopo in termini di tempo Londra perché vabbè Londra è sempre stata avanti in termini di creatività e lì hanno una serie di regole molto vantaggiose e intelligenti e logiche secondo me a livello di fisco fiscalità investimenti e via dicendo l'Italia non sta ancora facendo un po' diciamo l'ultima ruota del carro in questo senso però sta migliorando insomma Londra è un altro posto dove potreste andare e ovviamente è molto più semplice arrivarci rispetto a San Francisco o San Diego insomma o Los Angeles o Seattle costa di meno anche se il costo della vita a Londra è comunque alto poi ci sono vabbè Singapore che vabbè anche lì come capirete un po' se avete un po' vissuto insomma ci sono un sacco di riscrivi fiscali a Singapore oltre che tanti capitali quindi in realtà uno dei motivi per cui Singapore è diventato un altro grosso hub di start up perché se vai là è molto più semplice raccoglie capitali di farsi dare soldi in maniera diciamo molto differenziata mettiamola così il resto invece è Berlino che è una città anche lì sta crescendo molto molto velocemente in Europa e costa di meno di Londra e anche lì è molto semplice arrivarci non deve neanche prendere l'aero volendo poi arrivarci pure in macchina quindi è da considerare per un europeo ma questi sono i posti in mondo questa qui è la classifica diciamo mondiale delle città non credo che leggiate niente non ci leggo neanche io qua comunque sono quelle che vi ho appena detto le prime quattro sono americane sì con Valle la considero una città New York Los Angeles e Boston la quinta è Tel Aviv come vi dicevo poi c'è Londra Chicago e a seguire tutto il resto quali sono i posti dove si può andare questi invece sono degli esempi di incubatori o acceleratori come vi ha detto prima Luca quindi posti dove vi insegnano o tentano di insegnarvi e lì dovete stare molto attenti a selezionarli bene come fare start up riducendo gli errori che vi ho fatto vedere prima c'è tutta quella trafella di errori che io ho fatto è perché non ho mai avuto qualcuno che mi dicesse guarda che forse così è un po' sbagliato guarda che chiedere soldi troppo presto è sbagliato andare sul mercato troppo tardi o troppo presto è sbagliato ci sono una serie di errori che chi ha già fatto start up ovviamente vi può dire potete rifarli se volete però ve l'avevano detto quantomeno a me nessuno ha mai detto queste cose quindi ho potuto esperienziarli tutti se esiste la parola esperienziarli in italiano queste persone queste persone anzi queste organizzazioni le migliori tra quelle che sono qua sicuramente sono Y Combinator in alto a destra e 500 start up si occupano di prendere start up early stage quindi poco più di un'idea insomma selezionarle selezionare i team migliori le idee migliori e cercare di farle scalare in cambio chiedono delle equity o comunque dei soldi a seconda di quale incubatore stiamo parlando e ti aiutano a scalare quindi a crescere in un mondo come per esempio l'America o come l'Europa o nel mondo in generale in cui da solo è difficile anche se sei molto bravo scalare avere i contatti e vendere i tuoi prodotti in Europa ci sono Techpeaks e Rocket Internet che Rocket Internet in particolare è molto bravo a farti scalare se tu hai un modello che minimamente funziona anche solo su Pavia loro hanno una marea di contatti allucinanti ci prendono un bel po' di equity ma sei sicuro che nel giro di un anno sei in tutta Europa col tuo prodotto sono molto molto tosti e un esempio invece che ho messo che è Startup Chile secondo me è da citare perché è un paese intero che è riuscito a mettersi sulla mappa delle Startup un paese come il Cile che voglio dire era indietrissimo negli ultimi dieci anni è cresciuto molto e hanno avuto questa intuizione si sono messi non città per città ma come nazione intera a dare sgravi soldi mentoring chiamare persone da tutto il mondo a insegnare alla gente che veniva selezionata a fare Startup e hanno avuto l'intuizione di non farlo solo con i cileni ma di prendere application da tutto il mondo quindi attualmente il Cile Santiago in particolare dove hanno base è uno dei posti migliori dove poter imparare a fare Startup è assolutamente sulla mappa delle Startup mondiali prima non l'ho messa perché parlavo solo di città ed è un posto che insegna che se hai la giusta visione il giusto mindset puoi portare un paese intero a crescere e a farsi conoscere nel mondo per l'innovazione voglio dire uno può pensare non so al Giappone all'America ma non al Cile quando pensa all'innovazione da qualche anno assolutamente il Cile è sulla mappa per queste cose in basso a destra invece vedete Mind the Bridge ve ne ho parlato prima l'abbiamo messo non perché sia una cosa mondiale anche se sta scalando molto ma perché è su Pavia banalmente da Pavia avete già una possibilità tramite Mind the Bridge di essere visti a livello mondiale di accedere a un network mondiale il uno dei principali il chairman di Mind the Bridge è attualmente quello che si occupa di gestire la Startup Europe la coordinazione il coordinamento delle Startup in Europa quindi una persona che una certa influenza ce l'ha e vi fa accedere sicuramente a un vasto network di persone che vi possano insegnare a fare Startup o che vi possono introdurre persone interessanti io sono stato introdotto a una squadra MBA grazie al network di Mind the Bridge altrimenti sarebbe stato sicuramente più difficile quindi questo è quello che potete trovare a Pavia e nel mondo e questo è l'ultimo consiglio diciamo un po' filosofico cioè siate pragmatici nel fare Startup perché ci sono un sacco di cose che vanno fatte giorno per giorno però puntate sarebbe hook your flow to a start cioè attaccate il vostro Aratro a una stella l'Aratro è un simbolo proprio di pragmatismo ARA è il tuo campo devi fare una cosa pragmatica però cerca di puntare in alto se l'obiettivo che ti poni tu stesso è basso visto che molto probabilmente non lo raggiungerai vai sicuramente più in basso rispetto a uno che si è posto ad un obiettivo alto grazie mille mi chiamo Dario Savini ero quasi ricercatore in Università di Pavia precario diciamo per 14 anni comunque inserito nell'ambiente accademico di Pavia e la mia Startup è partita come un'idea proprio nata da Pavia per cui una Startup diciamo uno spin off accademico e prima di farvi la mia presentazione sul prodotto di cui a voi penso che non interessa più di tanto infatti vedo un sacco di gente che si sta alzando direi diciamo quello che è stato detto dai dai vostri dai giovani diciamo precedenti è tutto vero ed è tutto bellissimo cioè la cosa che che mi piace diciamo della Startup è prendere un'idea e vedere che si concretizza e diventa qualcosa di reale ed è un prodotto vostro io vorrei fare una piccola indagine cioè quanti di voi sono venuti qua oggi chiaramente per curiosità per vedere cosa significa realizzare una Startup ma quanti di voi avrebbero intenzione in futuro di provare a percorrere questo cammino cioè quanti di voi vabbè a parte quelli ovvi diciamo quanti di voi preferiscono la sicurezza di uno stipendio mensile da dipendente e quanti invece vorrebbero mettersi in gioco pesantemente con diciamo sangue e sudore su una propria idea per vederla realizzata cioè mi piacerebbe saperlo voi siete giovanissimi siete appena arrivati vi sono state presentate un sacco di opportunità di networking che non c'erano quando ho iniziato io perché ho iniziato comunque nel 2012 quando ho iniziato anche loro se no le avrei utilizzate tutte perché poi ero fondamentalmente uno scienziato quindi dovevo imparare a fare business per cui tutte queste attività servono per imparare poi a fare business mi alzate le mani sono curioso c'è qualche ciao 5, 6, 7 cioè non bisogna avere 10 persone tantissimo dei 10 persone è già un ottimo risultato giusto e diciamo che tutto quello che diceva loro tutto quello che diceva Paolo è vero è un continuo susseguirsi di errori da quando voi iniziate a pensare a come realizzare il vostro prodotto metterlo sul mercato e tutta questa fase qua è tutta una fase che avete sulle vostre spalle dopodiché dovete per forza affidarvi invece a qualcuno che sappia qualcosa veramente di business cioè avete bisogno ad esempio di un manager vero che possa entrare nell'azienda e rendere industrializzare il vostro prodotto però tutta la prima fase per portare per arrivare a questo manager è una fase neanche 1.0 è una fase 0.1 e dovete essere coscienti dall'inizio che dovete soffrire e che questa sofferenza è una sofferenza mista alla felicità di voler soffrire cioè non so se riesco a spiegare il concetto però in realtà non potete farne a meno diventa una specie di droga perché sapete che è una cosa che avete realizzato voi che volete vederla camminare con le proprie gambe e quindi a quel punto non esiste più il tempo non esiste più cioè chiaramente avete la famiglia avete tutto cercate di mediare però quando io vedo almeno quello che è successo a me e quello che sta succedendo ad altri start-up tipo Paolo e più o meno siamo partiti assieme è che alla fine diventa un chiodo fisso quello di riuscire a realizzare la propria la propria idea la propria invenzione e quindi il vero start-upper si sveglia alle 9 cioè alle 9 alle 7 per partecipare ad un evento che magari lo porta in contatto con un investitore se non avete questa che si crea comunque non viene subito cioè se non avete questa questa capacità di sofferenza per il vostro progetto non riuscirete mai a portare il prodotto sul mercato perché è di una difficoltà immensa arrivare a far apprezzare quello che state facendo io non so se condividi li ha spaventati li ha spaventati abbastanza ma no li ha spaventati perché secondo me dovete provarci e poi dovete cioè nel senso provandoci dovete provare tutti perché è divertente se vi divertite andate avanti se non vi divertite vi fermate però è un'esperienza che dovete provare no? dunque io cosa ho fatto cioè ad esempio io un prodotto industriale mi occupo di acque abbiamo fatto un reattore biologico che riutilizza i tappi di plastica di bottiglia come strumento per far crescere i batteri che poi depurano l'acqua è una specie di lavatrice ultra efficiente che realizza tre processi per depurare le acque le acque diciamo civili quindi acque civili urbane no? acque nere acque grigie o le acque industriali quindi siamo partiti chiaramente dalla storia della della nostra conoscenza personale del prodotto e abbiamo realizzato questa macchina quindi qua l'idea era un disegno un disegno diventa un brevetto cioè queste sono le fasi prima di tutto depositare il brevetto brevetto significa soldi no? per depositare il brevetto e trovare anche lo studio di consulenza che è in grado di depositare il tuo brevetto dopo questa prima fase hai una fase diciamo di realizzazione e allora io sono un biologo non ho mai costruito una macchina quindi mi serve il team come diceva prima gli altri il team è veramente fondamentale bisogna essere quasi fidanzati con i propri con i propri soci ognuno deve avere delle caratteristiche che compensano le tue mancanze per cui se io sono capace a spiegare il mio prodotto il mio socio ad esempio è capace a realizzarlo e chiaramente bisogna trovare almeno un set di competenze minime per fare in modo che questo prodotto vada veramente sul mercato allora trovare poi chi lo costruisce e chiaramente anche lì i prezzi delle prime macchine sono cose impegnative puoi andare avanti un secondo alla fine in officina invece si realizza appunto il prototipo e come vedete sembra una lavatrice noi l'idea l'avevamo avuta perché diciamo sappiamo che facendo crescere sulla plastica i fanghi attivi che sono i fanghi della depurazione si aumenta l'efficienza del processo abbiamo detto se lo mettiamo in un ambiente chiuso in un volume chiuso possiamo mettere tantissima plastica quindi aumentare la superficie batterica quindi aumentare l'efficienza del processo poi dopo applicandolo abbiamo capito che invece anche il fatto di utilizzare dei tappi conca vi serviva deve essere validato scientificamente abbiamo dovuto comprare dall'università degli studi di ricerca di base cioè per validare il prodotto e anche lì trovare l'università migliore che ci fa questi studi per cui stiamo parlando di prodotti industriali sono meno veloci per andare sul mercato perché hanno bisogno di validazione io dovevo convincere che mettendo in una lavatrice dei tappi di plastica il mio sistema lavorava meglio della Siemens di un sistema della Siemens cioè vi immaginate quali difficoltà quindi dovevo portare dei dati tecnici e sono andato anche a parlare a queste aziende e loro hanno dovuto riconoscere con i dati tecnici alla mano effettivamente non ci abbiamo pensato quella è stata una gran bella soddisfazione quindi diciamo che quando si presenta poi si presenta il prodotto io spero che voi avete capito qual è il mio prodotto l'avete capito? ok poi in realtà bisogna essere molto più veloci nel pitch perché ci sono sempre il pitch è la presentazione ti danno sempre soltanto 7 minuti 5 minuti 3 minuti alla fine devi soltanto catturare l'attenzione la gente di solito non capisce niente e poi però rimane incuriosita e dice oh questo c'ha i tappi e poi mi viene a chiamare e gli devo spiegare tutta la storia comunque diciamo che bisogna far vedere quali sono i vantaggi del prodotto nella tua presentazione cioè quali sono i nostri vantaggi rispetto alla concorrenza milioni di persone lavorano nel campo della depurazione non è che arriva il primo scemo come me che mette i tappi di plastica in una lavatrice e tutti gli devono dare retta però gli devo dire che la mia macchina non costa niente come manutenzione cioè facendo questa operazione io l'utente che usa il mio sistema risparmia l'80% di energia elettrica capite che per un'azienda che produce latte l'80% di energia elettrica magari sono 90.000 euro all'anno no? e quindi si recupera molto velocemente l'investimento gli devo far capire che si installa moduli e per cui non ha bisogno di chiamare una squadra di operai fare appunto scavi in cemento ma deve soltanto posizionare la macchina sul posto e collegarla devo fargli capire che non gli costa niente mantenere la macchina perché è una lavatrice per cui in pratica deve soltanto ingrassare i perni di rotazione che girano molto velocemente e che è un prodotto scalabile se sparlo con un investitore devo fargli dire bene sono dei moduli che si attaccano e quindi uno aumenta la produzione delle acque da trattare e aumenta il numero di moduli allora a quel punto diventa interessante poi gli devo far capire qual è il mio segmento cioè dove va a finire il mio prodotto come dicevano loro va bene per tutti no l'acqua è dappertutto però ad esempio non va bene per le acque potabili questo va bene proprio per la depurazione delle acque diciamo refue quindi le acque di produzione industriali oppure le acque delle città cioè acque nere e acque grigie e allora gli devo dire dove andiamo ad applicarlo nel residenziale nel food and beverage nelle altre industrie cioè questi sono i nostri segmenti di mercato poi e poi gli devo dire la cosa più importante è che diceva vabbè per adesso è una figata dove l'hai messo no? allora gli devo far vedere che esiste e quindi e questa è la cosa più difficile ragazzi perché nei primi due anni non esiste però voi dovete comunque fare delle presentazioni tipo queste e la prima cosa che ti chiedono dicono ma dove l'hai applicato e come funziona e quali sono i parametri di funzionamento adesso per me è molto più facile quando gli faccio vedere che esiste e l'ho installato in varie forme su vari reflui no? ma una volta col cavolo era molto più difficile poi devi fargli dire devi fargli capire che c'è un segreto industriale perché ti dice ah grazie te lo copiano sicuramente però io gli dico no guarda che voi non potete copiarmelo perché ogni macchina che esce dalla mia dalla mia azienda è dimensionata dal nostro ufficio tecnico il cliente mi dà i dati delle acque che deve trattare e io ho un modello matematico segreto che gli dice chiaramente quale macchina deve comprare di che dimensioni eccetera questa non è brevettabile è il nostro segreto industriale poi gli dico le value proposition sono ma quali sono veramente le cose più importanti del tuo prodotto cioè quando tu pensi alla tua idea dici ma ma cosa veramente me lo farà entrare sul mercato questo prodotto qua quali sono i motivi rispetto alla concorrenza allora si prende in considerazione che cos'è cosa c'è sul mercato tradizionale conventional cosa c'è di nuove tecnologie e la tua e come la tua tecnologia apporta benefici ad esempio in campo di riduzione dei consumi dell'energia manutenzione eccetera perché devi convincerli rispetto a quello che esiste se la tua innovazione non è forte in questo senso cioè se non ha value proposition è difficile che vada sul mercato e poi queste sono le cose più importanti queste vanno giocate tantissimo il primo cliente che ti dice l'ho provato e funziona è una cosa da mettere nella vostra presentazione cioè la mail del cliente che mi dice pensavo di spendere mille euro cioè di spendere sette mila euro e ho speso mille euro perché ho usato il tuo sistema è la leva si dice quindi comunque il fattore che fa credere a chi vuole mettere dei soldi nella tua idea che ha un risultato anche nei confronti del cliente noi abbiamo tutto il problema della validazione scientifica abbiamo dovuto fare degli studi di dettaglio quindi coinvolgendo l'università che vogliono i soldi giustamente per cui tu sei uno start-upper hai poco budget devi convincerli a fare un lavoro molto complicato con pochi soldi devi girare diverse università finché trovi quella giusta e così abbiamo fatto per validare la microbiologia che si verifica nel nostro reattore poi bisogna raccontare un po' la storia la storia è questa appunto noi abbiamo una formazione sul prodotto che non sarebbe mai andato sul mercato se non avessi incontrato gente come loro che mi hanno spiegato il lato commerciale del prodotto da quando è nata l'idea quindi andiamo questa è un po' la nostra storia siamo arrivati nella fase 0.2 che vi dicevo cioè industrializzazione del prodotto il prodotto c'è sul mercato funziona la gente contenta ma siamo sempre tre pirla e un'altra azienda concorrente ne ha 50 all'interno di uno studio tecnico per cui bisogna crescere bisogna trovare qualcuno che ti aiuti a crescere questi sono i membri del team adesso quell'ultimo che vedete ad esempio un manager un business angel che ha proposto adesso di entrare adesso è il momento di far entrare qualcuno che ha lavorato nell'ambito proprio manageriale e quindi siamo disposti a cedergli delle quote per dare una strategia e lui subito ci ha cambiato la strategia queste sono delle dimostrazioni che si danno per dire quante offerte avete mandato e quante ne avete realizzate questo è quello che succede con le start up c'è interesse per il prodotto nuovo e quindi tutti chiedono delle offerte che ti fanno perdere anche un sacco di tempo però quelle realizzate sono soltanto quelle verdi là in alto quindi una percentuale molto piccola perché devi trovare anche il cliente pronto a rischiare su un prodotto nuovo tu sai che è una cosa fantastica ma prima che vada sul mercato deve avere una decina di applicazioni ma la prima è difficilissima da trovare e quindi poi alla fine si fanno dei piani per convincere gli investitori che devono essere come quello che diceva prima Paolo cioè di guardare le stelle colorato devono essere al di fuori della vostra più incredibile immaginazione cioè adesso noi proponiamo agli investitori investimenti per fare delle nostre soppartecipate in diverse parti del mondo perché abbiamo scoperto che in diverse parti del mondo interessa il nostro prodotto l'investitore i soldi ce li ha preferisce metterne tanti ma diminuire il rischio di investire quindi se gli proponete qualcosa di grandioso e realizzabile sulla base di dati concreti i soldi te li dà se gli proponi qualcosa di grandioso che non è ancora maturo i soldi non te li dà quindi un'altra cosa è comunque pensare in grande non subito dall'inizio chiaramente perché se no uno però quando si è raggiunta una certa diciamo maturità hai superato la mortalità della start up non so se voi sapete il 95% muore e il 5% rimane hanno già paura basta però bisogna anche il mio discorso è questo è inutile avere 200 milioni di giovani che cercano di realizzare delle idee del cazzo e informarli subito che ne bastano 3 che invece diventano delle idee importanti cioè secondo me bisogna informare che esiste questa possibilità come fate voi ed è un lavoro fantastico però anche voi avere 100 persone che vengono ai cocktail di activator di cui soltanto uno al cervello è meglio che ne venga uno col cervello perché fa crescere sia voi che tutto il comparto giusto? ok sono un po' tranchato e poi si devono presentare il piano economico finanziario di crescita dell'azienda no? e chiaramente deve essere fatto da un commercialista da qualcuno che sa utilizzare che sa fare i conti o che ha comunque delle conoscenze economiche vabbè quindi noi stiamo costruendo la nostra prima operative unit negli Stati Uniti Los Angeles e quindi adesso questo qua tra l'altro è il pitch che devo fare a Los Angeles fra due settimane per cui avevo questo a disposizione per farvi vedere come esempio un pitch però diciamo che la presentazione di Dario l'abbiamo chiamato lui abita e lavora a Trento era per farvi vedere che non c'è solo il digitale là fuori non ci sono solo aziende che fanno applicazioni o social network per cani ci sono cose che un biologo che viene dal mondo della biologia della biologia marina e sta lavorando invece nel mondo del basket e ci sono invece progetti molto più scientifici cioè lavorare con Dario o le sai queste cose o non te le puoi inventare l'esperienza che dicevamo prima ma quello che mi faceva piacere farvi passare come messaggio per farvi vedere due realtà diverse una molto scientifica lato sporca le mani l'altro molto scientifica ma tecnologicamente voi state studiando comunicazione il vostro lavoro al 99% sarà legato al mondo dei video della grafica del fare le presentazioni non per forza finirete a fare i loghi ma li occuperete magari di social media iniziate a pensarci a quello che vi piace vi volete sporcare le mani con cose legate al mondo dei brevetti e fisicamente cose sporche come l'acqua sporca volete focalizzarvi in un qualcosa invece di più intangibile applicazioni big data iniziate dovreste essere quasi tutte matricole al primo anno in teoria avete davanti cinque anni di feste dei collegi avete davanti cinque anni di secche micidiali al mercoledì e vanno vissute fino in fondo però prima si inizia a capire che cosa ci piace veramente io l'ho capito il quarto anno di università ci ho messo un po' prima si inizia a capire prima si inizia a focalizzare prima ti focalizzi prima eviti di perdere tempo prima eviti di perdere tempo prima eviti di mandare cento curriculum e non trovi lavoro no non è non è vero che così nera la cosa però è davvero importante iniziate fin da subito capite che cosa vi piace non è non è per niente una domanda semplice può sembrare una stupidata ma vale la pena perderci cinque minuti e pensarci i nostri contatti li avete ce li potete chiedere ci cercate come activators ci trovate siamo a vostra disposizione per qualsiasi cosa grazie a tutti